sull'ottimismo, per proposito di Gradisca, io ho fatto un'azione qua con Torino, proprio che hanno fatto, ci hanno filmato e Torino mi ha raccontato qualcosa, è stata una cosa bellissima, conviene essere ottimisti anche per l'econismo personale, però l'ottimismo non vuol dire che sia un'attività, l'ottimismo vuol dire che tutto si può risolvere, pensare che tutto si possa risolvere da un senso a più. Sì, viva lì, arrivi lì. Grazie mille, grazie. Bene, che poi è arrivato a Forlì Italy con Oscar Farinetti. Sì, lo chiameremo proprio a Marcord, l'Italy Romagna lo dedichiamo a Torino, lo dedichiamo a Torino, a tutti i rapporti che abbiamo avuto con Torino, Torino è uno che a me ha cambiato la vita, ma l'ha cambiata anche a Italy, perché lui mi ha fatto capire che si può mettere ancora una poesia vicino a quello che facciamo sempre, anche negli affari. Quindi prossima apertura a Forlì fine anno, alla grande, in piazza, ce la faremo, ciao.